Ciao ragazzi, tutto bene con voi? Io sono il professore Gioele, professore della Casa Cultural Italia e oggi noi vediamo il verbo essere, che in portoghese è il verbo ser. In italiano possiamo utilizzare il verbo essere nel senso di ser o stare. Per esempio, io sono Gioele, io sono qui, questi due sensi. Qui vi presento il verbo essere, qui ci sono i pronomi e la coniugazione del verbo essere. Io sono tu, sei lui maschile, è lei femminile, è noi siamo voi siete e loro, tanto maschile quanto femminile, loro sono. Allora facciamo questo in una frase. Io sono, io sono la maestra di Luca. Maestra è la stessa cosa di professoressa. Tu sei italiano, sei nato in Italia. Lui, lui è bravo, lei è brava. Qui bravo non è sinonimo di arrabbiato, bravo è di una persona molto buona in quello che fa. Noi, noi siamo bambini, voi siete fratelli, ossia sono nati dagli stessi genitori. Loro, loro, tanto maschile quanto femminile, loro sono amici. Allora rivediamo qui. Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete e loro sono. Nelle frasi a volte non ci sarà il pronome, sarà un nome. Perché? Perché il pronome sostituisce un nome. Per questo che a volte non troviamo un pronome, ma un nome al suo posto. Vediamo adesso alcune frasi. frasi. Io vi darò qualche secondo per completarla. Ok? Comprate le frasi con il verbo essere. Soltanto il verbo essere. Quello che abbiamo appena visto qui. Prendete appunti sui vostri quaderni. Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Perché saranno queste coniugazioni che noi usiamo qui in questo esercizio. Prima frase. Il bambino brasiliano. Pensate un po'. Il bambino brasiliano. Il bambino è brasiliano. Terza persona singolare. Elisa e Mario amici. Vedi? Due persone. Elisa e Mario sono amici. La mamma di Marta. Auta. Auta. Auta, un aggettivo. La mamma di Marta. Che cos'è? La mamma di Marta è. Auta. Io, cinese. Cinese è la persona che nasce in Cina. Io sono cinese. Cinque. la maestra di Luisa. Bella. La maestra di Luisa è bella. Tu. Una brava aluna. Aluna, studentessa, lieve, è la stessa cosa. Tu. Tu sei una brava aluna. Il libri. Il libri. Plurale, maschili. Vedi? Finisce con la i. I libri. Sì, è plurale maschile. È loro. I libri sono nell'armadio. Sì, sono dentro l'armadio. La gomma dentro l'astuccio. La gomma è una cosa soltanto. La gomma è dentro l'astuccio. Gomma è quello che usiamo per cancellare quando facciamo un sbaglio con la matita. E astuccio è quel contenitore che mettiamo non solo le gomme, ma anche le pene, le matite, quello che ci serve per scrivere e cancellare in una lezione, per esempio. Voi in cortile. Cortile è la parte esterna di una casa. È un ambiente esterno. Voi siete in cortile. Numero dieci. I penarelli sotto il banco. Vedi? I penarelli plurale. Plurale maschile. Se è plurale. È loro. Loro. I penarelli sono sotto il banco. In questo caso penarelli. Abbiamo questa pena. Penarelli è quello più grande che usiamo per scrivere sulla lavagna. Sotto, sopra. Sotto, sopra. E il banco che può essere la stessa cosa di un tavolino che lo studente usa per mettere sopra il suo libro. I quaderni nello zaino. I quaderni, vedi, plurale maschile, qual è il verbo? Sono nello zaino. Zaino è quello che mettiamo sulla spalla, quel contenitore, non è una borsa. Lo zaino. Numero dodici. Io. Io. Facile a straniero. Io. Sono straniero. Antonio e Giorgio. Due persone. Due persone qui. È loro. È loro maschile. In questo caso se è loro, indipendenti sia maschile o femminile, loro. Loro sono in giardino. Le bambine. Vedi che qui è anche plurale, però, in questa volta, femminile. Loro, anche qui, perché le bambine, più di una, sono a scuola. Vedi che il verbo essere qui non parla chi alla persona è, ma sta a scuola. E l'ultima frase, ragazzi, l'insegnante, che è la stessa cosa di professore, l'insegnante, di quale nazionalità? È francese, con accento contrario, sulla E. Noi abbiamo visto quei 15 frasi, abbiamo praticato un po' il verbo essere. Vi chiedo che, se sono andato molto veloce con le frasi, voi potete mettere una pausa, ogni frase, così potete pensare un po' prima di avere la risposta. Ok? Facile il verbo essere. Questo è un esercizio, una spiegazione per il livello elementare a uno, ossia per chi è un principiante. Ma in questa cosa possiamo essere principiante, avanzato, dobbiamo sempre praticare la lingua italiana. Allora, questo è un esercizio. Spero che vi sia stato di aiuto a voi e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci! Fala italiano agora! Mamene! A Casa Cultural Itália está con inscrizioni abertas para os cursos de lingua e cultura italiana para os níveis iniciante e intermediario. São aulas ao vivo e online com professores nativos especializados, material didático dinâmico e o melhor, você pode estudar de qualquer cidade da região, nas turmas ofertadas ou em aulas VIPs. Inicio do curso, já na primeira semana de fevereiro, aprenda o idioma italiano e fale fluentemente por um preço super acessível. Inscrições e informações pelo Fone Watts 45 99961-1800.